Sono alle 3.13 di notte, sono tornata da pochissima a casa e mi metto a spacchettare il pacchettino numero 9 c'è qualcosa dentro, io dico di nuovo siero, magari prima o poi capiterà apriamo perché è tardissimo non è molto pesante cos'è? allora scopriamolo insieme fondotinta foundation di Montalto Bio ho provato il campioncino però il colore era un pochettino scuro quindi come fondotinta mi piaceva però il colore era un pochettino scuretto l'ho usato comunque d'estate ed è andata bene 30 ml vediamo che colore è perché non riesco a capirlo speriamo che sia il colore giusto perché ho proprio paura ma forse dentro vediamo sono molto contenta perché come fondotinta ripeto che mi era piaciuto tanto e sono perfino andata in un negozio che vendeva questa marca non riesco ad aprirlo però il tester giusto giusto del colore più chiaro era ormai credo scaduto non lo so era di un colore orribile e non si poteva prelevare 110 sunrise perfetto 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 sono contentissima e sono contentissima di aver scritto nella profilazione che ho la pelle chiarissima anche se la mia pelle è chiara perché appunto è il primo numero e quindi credo che sarà perfetto e credo anche che abbia sotto tono rosato in realtà la cosa curiosa è che io credevo che il fondotinta sarebbe stato di Alchemilla di quelli nuovi infatti ci sono 5 colorazioni noi abbiamo dovuto scegliere fra 5 colorazioni e invece a Montalto e io sono davvero 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 contenta erogatore airless insomma conoscevo già questo prodotto e non posso che esserne felice grazie 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 grazie